Un ultimo passaggio volevo dire, nazionalizzazione sì nazionalizzazione no, allora il dato qua non è tanto nazionalizzazione sì nazionalizzazione no, il dato che nel tratto particolare della A10 si tratta di un'infrastruttura costruita come abbiamo detto più volte con i soldi pubblici dei contribuenti italiani che poi non hanno giovato degli stessi soldi pubblici versati allo Stato per la costruzione, ma ne ha giovato un privato che mi sembra evidente essere la nazionalizzazione un percorso assolutamente dovuto e doveroso, prima oggi alle vittime di queste mani tragedia e poi per il resto per tutti gli italiani che i soldi li hanno messi, ci sono dei casi chiari e la rivalutazione di tutte le concessioni pubbliche passerà da lì, se l'interesse pubblico è preeminente, preeminente va con la barra verso la nazionalizzazione questo governo opererà tutte le nazionalizzazioni nel caso in cui invece per converso si dovrà costruire un'opera importante, investire tanti soldi che il governo deciderà di non impegnare perché creare dalle convenzioni serie, scrupolose in cui ci guadagnano tutti in termini di interessi.